E niente, i primi tre punti non arrivano neanche oggi Il problema è che quest'oggi al Brianteo, o meglio all'U-Power Stadium, Monza-Chievo non arriva neanche un punto Ebbene sì, perché il Chievo-Verona dunque espugna lo stadio Brianteo grazie al risultato in rimonta di 2-1 Dopo che il Monza nel primo tempo è andato in vantaggio grazie alla rete, alla prima rete bianco-rossa di Kevin Prince-Boateng E poi nel secondo tempo il Chievo rimonta con due gol della loro punta ex Lazio, Djordjevic Fatto sta ragazzi che per quanto mi riguarda quest'oggi c'è davvero ben poco da parlare della partita in sé Perché è stata una partita soprattutto nel secondo tempo, a mio modo di vedere, vergognosa per quello che ho visto Nonostante comunque magari un primo tempo dove il Monza sembrava più propositivo, sembrava avere in mano il pallino del gioco Aveva trovato anche il gol grazie a un rigore molto ma molto dubbio, per non dire inventato da parte di Abisso Famoso arbitro che se ricordate arbitro anche quel famoso Fiorentina-Inter dove regalò un gol alla Fiorentina Ebbene se oggi da Montese c'è da dirlo, ha regalato un calcio di rigore al Monza Che poi Boateng ha effettuato, ha segnato nella maniera più corretta possibile L'importante era certamente trovare la rete del vantaggio per sbloccare la partita Visto che non è una cosa così immediata per quanto riguarda il Monza in queste prime uscite Dopodiché che cosa succede? Barilla viene espulso quasi al termine del primo tempo E questa è stata veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso Nel senso che ha cambiato in negativo per il Monza la partita Da un giocatore come Barilla sinceramente io come penso tutti i tifosi biancorossi Non si aspettano questo tipo di errore Perché lo possiamo chiamare errore anche se sono due errori Due falli da cartellino giallo netti Che un calciatore della caratura, dell'esperienza di Barilla Che ha calcato molte volte il campo di Serie A con la maglia del Parma È stato anche capitano del Parma Io da una persona, da un giocatore come lui non mi aspetto questo tipo di uscite E fatto sta che come ho già detto ha condizionato la partita Visto che il Monza è passato da giocare un primo tempo dove si ha effettuato una buona prestazione Costruendo senza ovviamente mai essere troppo pericolosa Però qualcosa aveva fatto Si è passati a un secondo tempo dove il Chievo poteva davvero farci un'imbarcata E anche la stessa mossa di Christian Brocchi Su di lui ci arriviamo dopo e ce n'è tanto da dire Ovvero quella di togliere Kevin Prince Boateng Che anche oggi, ripeto, apro e chiudo parentesi È stato un pesce fuor d'acqua a mio modo di vedere in questo Monza La mossa di togliere Boateng, di mettere Armellino e quindi schierandosi con una sorta di 4-1-1 Con unica punta, Dani Mota Che per carità, Dani Mota è stato forse oggi uno dei pochi che si è salvato Visto che ovviamente lui la voglia, la grinta ce la mette sempre Però schierandosi con un modulo così disorganizzato Il Monza e i giocatori in campo non sapevano davvero da che parte girarsi E queste sono responsabilità che un allenatore ha e che si deve assumere Io voglio vedere che cosa dice Christian Brocchi quest'oggi in conferenza stampa Io sono sempre stato uno che, l'ho sempre detto Non mi è mai andata a genio la figura di Christian Brocchi Non mi è mai piaciuto come allenatore Penso che l'allenatore non sia il ruolo più adatto a lui Visto che ovunque è andato ha fallito in sostanza Il Monza non lo possiamo ancora chiamare ovviamente fallimento Fatto sta che, ho sempre detto, io metto le mani avanti Per questa stagione lo lascio lavorare Fatto sta che il suo tempo sta per scadere Perché poi, come forse è sbagliato, ma da una parte è giusto che sia Le responsabilità vanno all'allenatore E insomma, il Monza, una squadra, ripeto, sotto il punto di vista qualitativo Ma soprattutto quantitativo Poi ci puoi mettere il Covid, quanto vuoi, le assenze, quanto vuoi Ma sotto questi due punti di vista Il Monza è la squadra forse meglio attrezzata del campionato di Serie B Tu non puoi esordire con tre punti in quattro partite È vero, ne dobbiamo recuperare un'altra È vero, possiamo vincere È vero, la classifica può migliorare grazie a quei tre punti Però come è giusto anche che sia Il tifoso si aspetta molto di più Dopo una estate passata a fare proclami Dove il Monza doveva partire subito alla carica verso la Serie A Ecco, io questo tipo di atteggiamento da parte della squadra non lo vedo Da parte della squadra e per squadra ovviamente intendo anche l'allenatore Perché insomma un Barillà che sicuramente non è stato uno dei peggiori in questo inizio di campionato Ma che da uno come lui mi arrivano due ammunizioni nel giro di 5 minuti Che viene fatto espellere, che cambia così la partita O da un semplice Donati, terzino di grande esperienza Che praticamente ha tutte le colpe riguardo il gol del Chievo Visto che tiene palesemente lui in gioco i calciatori Clivensi E io queste cose non me le aspetto da giocatori come loro E se la colpa primaria è la loro La colpa secondaria è sicuramente rivolta alla direzione tecnica E quindi a Christian Brocchi Detto questo ragazzi io rimango sempre nella mia opinione Do la piena fiducia alla società Che spero e credo che faccia le scelte migliori in questo campo Fatto sta che la mia pazienza con Christian Brocchi Man mano sta diminuendo D'altro canto si può dire che Certo non è che gli allenatori piovono dal cielo Visto che in questo momento Se il Monza dovesse esonerare Christian Brocchi Non so quante altre opportunità ci sarebbero in circolazione Visto che sento qualche tifoso esaltato Che parla già di Massimiliano Allegri al posto di Brocchi Cosa assolutamente impensabile Ripeto magari sarà pensabile quando il Monza Se il Monza arriverà un giorno in Serie A Quindi è una situazione molto confusionaria Dopo questo stop casalingo Che assolutamente non ci voleva Soprattutto per come è arrivato E per come affronterà questa settimana Il Monza Piena di pressione Monza che praticamente ha già da quest'estate Le pressioni non solo dei tifosi biancorossi Ma di tutti i tifosi delle altre squadre Visto che come è giusto anche che sia Il Monza ha grandi aspettative su di sé Detto questo ragazzi Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Che cosa ne pensate in merito a questa partita Vi ricordo di lasciare like Di iscrivervi Noi ci rivediamo ad un prossimo video E sempre Forza Monza